Sì, questa storia parte da molto lontano ed è una storia che molti di noi non conoscono e quindi abbiamo deciso di fare questa attività di comunicazione. L'Urber insieme a tutti i consorzi Bonifica ha promosso e promuove questa attività nelle scuole da alcuni anni e vediamo che c'è un grande interessamento da parte degli insegnanti perché andiamo a toccare alcuni argomenti, anche abbastanza difficili da trattare, però li trattiamo in maniera un po' giocosa, molto divulgativa, facciamo una carellata lungo una storia che dura da tanto tempo per arrivare a parlare di cosa sono i consorzi Bonifica, le attività che svolgono quotidianamente oggi e quindi un lavoro che è sconosciuto alla maggior parte di noi e quindi è giusto che si trovi in modo, in questo caso un modo divertente per raccontare questa attività molto importante. Questa attività è appunto uno dei tanti tasselli che compongono il quadro generale di una comunicazione che i consorzi Bonifica fanno, non è l'unica questa attività, ci sono anche altri momenti, ci sono altre attività di teatro che io svolgo anche a livelli superiori, non solo con i bambini delle scuole elementari e medie ma anche con le scuole superiori. e il riscontro è positivo, l'interesse c'è proprio perché è un argomento che altrimenti sarebbe difficile riuscire a comunicare ai ragazzi, quindi bisogna trovare sempre delle parole, trovare dei metodi, trovare degli strumenti che siano un po' al loro livello e che riescono anche ad entusiasmarli. Io vedo che c'è anche molta attenzione, molto interesse, entusiasmo anche da parte degli insegnanti, quindi questo mi fa pensare che abbiamo trovato forse la chiave giusta per arrivare a toccare un po' l'interesse di tutti questi bambini. Forse non va dato per scontato nulla perché è tutto da raccontare, perché magari conoscono tante cose ma in maniera insuperficiale, anche un argine per dire che magari è una cosa che hanno sempre visto fin da bambini, per loro è una cosa normale vedere un argine o vedere un canale, però poi non si sono mai chiesti cosa serve, qual è la sua funzione, ecco. Nel momento in cui glielo fai capire attraverso questo sistema è come se conoscessero una cosa nuova, in realtà loro l'hanno sempre vista, però per loro è un mondo nuovo che si apre e dal punto di vista ambientale, insomma, il nostro territorio offre tantissimi spunti da questo punto di vista e c'è bisogno, insomma, di insistere su questo tema, cioè l'ambiente dove viviamo è un ambiente artificiale, l'abbiamo creato noi, ci abbiamo messo migliaia di anni per costruirlo, per crearcelo e oggi va difeso, è un ambiente complicato dove c'è zone urbanizzate ma c'è ancora tanta campagna, c'è ancora tanta natura e quindi è un sistema che va gestito in maniera integrata e quindi è bene sapere quali sono tutti questi elementi che compongono questo territorio. Sì, il 13 maggio è un momento conclusivo, le classi hanno presentato i propri lavori, c'è stata una giuria che ha selezionato i lavori più belli, il 13 maggio si fa questa festa, è un momento un po' per tirare un po' le somme di come è andato l'anno, il tema scelto, oltre che essere un tema legato anche a quello che è un po' il tema dell'Expo, è un tema importante perché i Consorzi Bonifica magari tutti pensano che servono solo per scolare l'acqua, per sgrondarla, per allontanarla, per la sicurezza idraulica, in realtà i Consorzi Bonifica fanno anche una cosa molto importante che è quella di procurare acqua all'agricoltura. Noi viviamo in una pianura che è fortemente agricola, con dei prodotti agricoli d'eccellenza e questo è garantito anche dal fatto che c'è il Consorzi Bonifica che riporta l'acqua in campagna nel periodo estivo quando di acqua non ce n'è. Quindi insomma è l'acqua da mangiare perché è acqua che si trasforma in cibo e grazie anche al lavoro dei Consorzi Bonifica.